Per gli oltre mille partecipanti è il caso di iniziare a preparare le scarpette. Dopodomani, domenica, ci sarà da farsi trovare pronti ai nastri di partenza della Corrisernia. A proposito, lo sono già gli organizzatori, stamane nella Sala Rauci, la presentazione della diciannovesima edizione a cura di chi, dalla prima, profonda energie e passione nella preparazione di un evento che ormai è diventato un must nel panorama degli appuntamenti sportivi in città. Naturalmente stiamo parlando del presidente della NAIA, Agostino Caputo. Al suo fianco, il sindaco Piero Castrataro. Siamo agli scocci, come diceva lei, la preparazione dell'evento ormai è arrivata alla fase conclusiva in quanto mancano solo i dettagli. Il tutto è stato realizzato, come gli altri anni, un grosso lavoro è stato fatto nelle scuole per il correre a scuola e un grosso lavoro è stato fatto anche dal nostro tecnico Luciano Di Pardo il quale anche quest'anno presenterà una lista di atleti assoluti, atleti assoluti di altissimo livello. Anche quest'anno la Gorri Serni, e questo è un applauso che facciamo agli organizzatori, ha ritrovato una nuova formula, una nuova gara nella giornata, che è veramente una giornata di grande sport e grande atletica ci sarà. Ma veniamo al programma, sperando nel meteo favorevole, a proposito, 26 gradi, la temperatura massima attesa per la giornata, il suono del primo starter risuonerà alle 16. Ai nastri di partenza circa 300 atleti di gruppi sportivi molisani e delle regioni vicine, soprattutto Campania e Lazio, impegnati nella 9 chilometri. Insieme ai più veloci della competitiva, si augurano gli organizzatori i tantissimi della non competitiva. La corsetta di 3 chilometri, legata al charity program, farà bene al fisico e al cuore dei partecipanti, e sì perché l'importo dell'iscrizione sarà devoluto ad un progetto benefico a scelta tra i quattro candidati. Possibile contribuire all'attività di prevenzione con Vivere in Salute della Lilt, o a quella dei disabili con il progetto In Movimento Anch'io della Cooperativa Lai. Acqua per la vita del Lions Club di Sernia, per la realizzazione di pozzi d'acqua in Madagascar, ampliamento dell'orfanotrofio di Macamba in Burundi, dell'associazione Oltre la vita Onlus, gli altri programmi, l'iscrizione alla gara, alla quale partecipa anche l'EMPA, Ente per la protezione degli animali, possibile fino alla mezzanotte di oggi. Nel fittissimo programma di eventi che animeranno e movimenteranno la città, l'attesissima corri la scuola, l'entusiasmo di centinaia di studenti, come nelle scorse edizioni, c'è da scommetterci, sarà contagioso. Quando la luce del sole comincerà a degradare, lasciando spazio alla sera, beh, quello sarà il segnale che il clou dello spettacolo sta per iniziare. Spazio, anzi strada, al miglio delle donne e alla gara all'americana. Giusto per inquadrarne la portata, basti pensare che si tratta di competizioni ad inviti, riservate ad atleti e atleti assoluti. A proposito della gara tutta al femminile, rappresenta un unicum nel panorama nazionale. Rimarca Caputo, è l'unica competizione del genere omologata dalla Fidal. La vincitrice sarà dunque detentrice del record italiano, un altro plus di una corrisernia che va sempre più forte.